Stoppato con recupero da parte di Daryl Tucker Intimidisce lì in mezzo all'aria Le indicazioni di un disperato Ceccarelli Credo più per la fase offensiva Che non per quello che sta succedendo Nella metà campo difensiva Di nuovo Maglietti dal palleggio Il ricciolo portato in fondo da Marco Timperi Che sblocca dunque Rieti Dimezzando le distore Tra l'altra parte accelera Rieti E trova due comodi Si fa per dire con Marco Timperi Forse non comodi Bisogna ricostruire e ripartire da Tortù Marchiaro dal palleggio Altro penetra e scarica Maglietti non esita E trova quella che è la prima tripla Della partita ospite Cerca il proprio lungo Trova la murata di Carver Il pallone però è ancora a disposizione dell'argentino Che infila la seconda tripla Della Proprio partito Ogni biglietto venduto quest'oggi È andato all'associazione attivamente impegnata in attività a favore dei bambini Con disabilità intellettiva Il che riende ancora più orgogliosi del fatto di vedere tante persone sulle tribune Eccolo qui Maglietti che si fa consegnare il pallone Si allontana rotondo Poi sale di nuovo per il blocco Conclusione di Maglietti Trova ancora il fondo della retina Partita strepitosa di Maglietti Terzo quarto Il merito notevole di non lasciarsi affossare dai colpi dell'attacco avversario Tripla Del solito Maglietti Anima e cuore di Rieti in questo momento Ancora delle speranze reatine Sedici sui